e dai buonasera buonasera amici ci ritroviamo qui per la puntata nostalgica degli anni 80 i nostri anni si amici vedete questo gioco fatto epoca facciamo due tre manche vai vai vitaletti vai qual è il tasto qui provetti e qui si va molto più piano perché non c'è la leva quella olimpioniche quelle che ti danno fuori dalle vedi come andiamo piano vedi siamo ancora l'ottanta signora era più bello una volta vabbè ci adegueremo ci adegueremo adesso vediamo questo ecco la qualifica vai ma da tornare la matta forse non era questo abbiamo sbagliato sì allora è questo e allora proviamo questo e allora dai poca velocità ma sgancio quasi perfetto per andare qua vedete vedete anche qui mettiamo il record vai vai dopo un po di musica di jovelfast sempre più piano andiamo vedi difficile con questo cosa qui ecco vai col jodling dobbiamo anche tenere le mani in senso lato in senso negativo foul se ci eliminano se ci eliminano ci basta vediamo 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 non possiamo essere eliminati con calma non tanto ma sicuramente essi più di 70 71 per il rotto per il rotto della cuffietta avete visto e qui adesso dura o qui è dura dobbiamo fare meno di 14 con questo logitech mouse non è detto che sia dura potrà essere più facile perché vi dico che qui serve il tempismo il timing direi che è fatta vedete direi che è fatta fatta sì fatta sì questo era difficile già d'epoca figuriamoci adesso una volta conclusa la carrellata degli sport concludiamo col nostro stacchetto musicale questo è arrivato anche oltre troppo oltretroppo e dai portati su ancora due falli se svegliamo anche questo non vi farò vedere ahimè il salto in alto va fuori va fuori e allora amici ci sarebbe stato il salto in alto ma fa di stesso ciao ciao ecco la musica meglio comunque siamo primi vedete vai vitaletti vai 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 la ma ma Grazie a tutti Grazie a tutti Buonanotte, vi saluto